Convalidato l'arresto per lo studente israeliano della Facoltà di Medicina dell'Aquila, accusato di avere storto denaro ad un prete ricattandolo con la minaccia di pubblicare messaggi erotici scambiati tra i due. Confermata la misura di custodia cautelare in carcere, dopo che il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari. I fatti hanno inizio circa un anno fa, quando il prete conosce il giovane studente con il quale instaura un rapporto d'amicizia, nel corso del quale i due hanno modo di scambiarsi numerosi messaggi via telefono cellulare. Oltre 100 sembrerebbero gli sms a sfondo sessuale. A giugno 2014 il giovane chiede urgentemente un incontro al sacerdote. L'appuntamento avviene in un noto centro commerciale cittadino ed il giovane comunica al sacerdote che alcune persone avrebbero preso visione dei messaggi erotici scambiati e che lo stesso prete per queste ragioni rischierebbe il carcere. Nel corso della conversazione il giovane giunge alla conclusione che per mettere a tacere queste presunte persone occorre che il prete gli consegni 9.000 euro. Il ragazzo stesso si sarebbe fatto carico di portare il denaro a destinazione. Il sacerdote, intimorito dalle parole del giovane, non disponendo di tale somma di denaro, concorda di pagare una quota mensile di 1.000 euro dopo un anticipo di 2.000. Passano così mesi fino a quando lo scorso 20 gennaio, dopo l'ultima consegna, lo studente avrebbe richiesto al fine di non divulgare la notizia, già in possesso di un giornalista, ulteriori 4.000 euro, cui si sarebbero aggiunti 6.000 euro da consegnare agli stessi individui che erano già entrati in possesso dei 7.000 euro. Solo così avrebbero messo fine al ricatto. I due si danno appuntamento per concludere la consegna. Il sacerdote, esasperato dai continui ricatti, decide di presentarsi in questura per denunciare i fatti. Dopo gli opportuni accertamenti effettuati dalla squadra mobile diretta dal dottor Maurilio Grasso, tramite appostamenti, video, riprese e registrazioni ambientali delle conversazioni dei due, oltre al registro delle utenze dei cellulari, gli agenti mettono in atto una trappola allo scorso 28 gennaio. Viene quindi accordato, come di consueto, un appuntamento per la consegna di 1.500 euro destinati al giornalista. Sostanzialmente l'attività della Polizia di Stato si è articolata nell'osservazione delle parti e l'ascolto delle loro conversazioni tramite uno degli uomini che, per non essere visto, si era nascosto all'interno del bagagliaio dell'autovettura del sacerdote. Il giovane è stato quindi fermato e trovato in possesso della busta con il denaro scambiato. Lo studente di medicina, prossimo alla laurea, è stato così dichiarato in arresto perché è responsabile del reato di estorsione ai danni del sacerdote. Grazie alla perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto le ricevute del trasferimento del denaro acquisito dal prete ai familiari del giovane studente israeliano che vivono gravi difficoltà economiche.